Sì. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi mi vedete in una funzione completamente insolita, la neve a Roma. Da stanotte, oggi è 26 febbraio 2018, da stanotte alle 4 sta nevicando, adesso sono intorno agli 8.30, vedete che bella nevicata dalla finestra di casa mia. Tutte le macchine parcheggiate, incominciano adesso i ragazzini ad andare per strada a giocare e adesso facciamo un'altra ripresa da un'altra finestra. Un bellissimo panorama, sembra di stare sui campi da sci, più tardi scenderemo giù. Sto aspettando che venga Gabriella. Allora questo è un altro video ripreso da un altro angolo della casa. Praticamente ci dobbiamo sbrigare perché qua sta nevicando pure dentro casa. C'è una nevicata molto fitta, le persone adesso incominciano ad andare nel parco perché ci sono tutti i ragazzini che ora faranno i pupazzi di neve, ci sono le persone che stanno salvando, stanno coprendo gli orti e niente, è una bella cosa. La nevicata è veramente, è veramente eccezionale, il cielo è bianco e così sarà in tantissime altre parti d'Italia. Io e Zio Lello vi salutiamo, salutiamo tutti gli amici di YouTube che in questa veste ci vedono in una veste diversa, differente, altre volte facevamo le ricette e questa volta invece ci siamo dedicati alla natura. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima neve, per oggi guarda ce n'è pure tanta. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marta, ciao. Il momento della situazione del manto nevoso, adesso sono le 10, ora fa molto freddo, ci sono tutti i ragazzini che giocano qua, laggiù in fondo siccome c'è anche una piccola discesina sono andati tutti con gli slittini. Siamo al terminillo, un po' di gente c'è, si è un po' rovinata perché è a cura di passare, però stiamo cominciando a nevicare. Un'altra volta? Sì, sì, un pochino, vedi? Un po' di gente c'è adesso. L'altro in fondo, vedi quante persone ci sono, perché anche la discesa vanno con gli slittini. Povera chia, è una chia trentina questa, non mica è una chia sarda, è una chia trentina, povera chia, sotto la neve, è diventata una chia settentrionale, è ammazza. Filmino col sole, Marta, eccolo qua, mamma mia, il sole rimarrà per qualche secondo, c'è un buco su un cielo. Ecco qua, mi sembra il terminillo, tutta la gente, guarda la gente nel parco, guarda, ok, tutto a posto, ciao Marta. Con un selfie, no, con un'asticella molto artigianale, stiamo provando a farvi un saluto da Roma con la neve, salutiamo tutti gli amici dentro. Ciao, 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 eccoci qua, eccoci qua, ciao. Ciao, ciao a tutti gli amici di YouTube, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.